Bene ragazzi, siamo qui nel primo video su questo nuovo canale, su EzzSport, questo canale dove ci sarò io, EzzYT, se non mi conoscete, non siete già iscritti all'altro mio canale, andate a iscrivervi. Cosa cambia da questo all'altro canale? Come ho detto su Instagram, qui metterò video meno complessi, meno editati, dove semplicemente dico ciò che penso riguardo soprattutto il calcio, ma anche un po' tutti gli sport, o meglio, quelli che guarderò. Scelpino, magari anche qualcosa sulla pallavolo, che sto pian piano iniziando a vederla di più, ogni tanto guardo anche qualcosa di tennis riguardante Sinner, essendo mio corregionale, però insomma, anche se dovessi parlare di quello, sarebbe una cosa molto da zero proprio conoscenza. Detto questo, oggi cosa, di cosa parliamo in questo primo video? Del mercato del City, perché se non mi conoscete io tifo Manchester City, ma non importa perché questo non sarà un canale solo del Manchester City, sarà un canale dove parleremo in generale. E quindi direi che partiamo subito con il mercato del City. Allora, prima ovviamente di dire la mia sul mercato, bisogna dire le uscite e le entrate a livello di giocatori, parliamo solo di calciomercato. Uscite, guardo qui sotto perché l'ho scritta qua. Gundogan a zero. Mares a 35 milioni. Laporte a circa 35 milioni anche lui. Sono tutti circa, eh, le cifre, perché finché non c'è il bilancio non le puoi sapere esatte. Palmer circa 55 milioni. Borges circa 17 milioni. Trafford circa 20 milioni. Poi ci sarebbero anche altre uscite a livello giovanile, così non le ho contate. Però calcoliamo un totale di circa 150-160 milioni, che può essere un po' di più, che può essere un po' di meno in base alle uscite giovanili, insomma, tutte queste cose qua. Però sono queste più o meno le entrate. E poi ci sono le ultime due uscite fatte l'ultimo giorno di mercato, cioè Cancelo in prestito al Barcellona e Meccati in prestito allo Sheffield. Sono tutti prestiti secchi, perché il Barcellona aveva problemi economici, quindi si dà in prestito secco Cancelo. E poi l'anno prossimo si valuterà per venderlo. Mentre Meccati si dà allo Sheffield per il secondo anno di fila, per farsi un po' di ossa in Premier League, per poi eventualmente anche promuoverlo e farlo giocare in prima squadra, perché è un bel giovane. A livello di entrata, invece, troviamo Kovacic a circa 30 milioni, Guardiola a circa 90 milioni, Doku circa 60, Mateus Nunes circa 55, per un totale di circa 240 milioni spesi. Quindi, tecnicamente, un rosso di 70-80 milioni, ovviamente solo a livello di calcio al mercato, perché poi, in realtà, per quello che si spende bisogna andare a vedere anche quello che entra a livello di competizioni. Ricordiamo che il City ha vinto il triplete, i diritti TV, la vendita delle magliette, insomma, tutto il fatturato che ha l'azienda Manchester City. Ma noi non ci concentriamo sul lato economico, perché non è nostra competenza. Noi ci concentriamo sul lato sportivo, sul lato acquisti e vendite. E devo dire la verità, sono molto soddisfatto di questo calcio al mercato, che è un po'... potrebbe sembrare un po' strano. Perché? Perché dai via Gundogan, uno dei più forti della squadra, un perno, il capitano. Dai via Mares, uno dei più forti. Certo, nell'ultimo anno aveva un po' perso il posto, ma rimane Riad Mares. Dai via Laporte, che è stato un difensore che ti ha dato tantissimo. Nell'ultima stagione non ti ha dato niente, però ti ha dato tantissimo. E dai via Palmer, un giovane promettente, che viene dalla tua Accademia, che può rappresentare il Manchester City. E infatti qua mi fa un po' storcia il naso. Però in realtà, tutto sommato, sono delle belle uscite. Perché tu vai a perdere 2 over 30, perché Gundogan e Mares, 2 32 anni, che vanno per i 33 addirittura. Vai a perdere Laporte, che va per i 29 mi pare. E poi vabbè, vai a perdere Palmer, che è un 2002, e quello ovviamente è un lato negativo. Però sono molto contento, perché queste uscite ti hanno permesso il rinnovo di Walker, che ricordiamo, anche lui, è un over 30, quindi tu non puoi tenere troppi over 30. In questo momento hai Walker, KDB, hai Kovacic, che ne ha 30 o 29. E poi in realtà, come over 30, mi pare che non ci sia nessun altro, se non, vabbè, Ederson e Carson, e forse anche Ortega, i tre portieri. Però comunque, dare via Gundogan e Mares, che volevano anche abbastanza dare via. Gundogan voleva fare un nuovo capitolo della sua carriera. Mares, ha voluto andare in Arabia giustamente, a prendersi un pacco di soldi. Ti ha permesso anche di rinnovare Walker, poterti tenere quel 33enne, che ci serve come il pane a destra. E ti ha permesso anche di poter tenere, vabbè, KDB quello a prescindere, ma anche poter tenere un terzetto di portieri un po' più vecchi. Ecco, magari sono un po' meno d'accordo sulla cessione di Trafford al Barley, perché comunque è un bel prospetto, è vero, ci fai 20 milioni di euro da un giocatore che non ha mai giocato in prima squadra, questo è vero. Però già il Barley sta dimostrando bene, magari lo avrei dato in prestito con comunque una clausola di recompra per noi, perché Ederson va sostituito prima o poi, Trafford non è male nemmeno con i piedi. Quindi chissà cosa ha in mente Guardiola, o ha in mente un altro portiere, o la dirigenza, essendo che comunque Guardiola ancora un anno, e poi un altro di contratto, e poi gli scade. E non credo che lo vada a rinnovare, ma questo è un altro discorso. Quindi tutto sommato fai delle buone uscite, andando a guadagnare anche tanto, perché comunque guadagni 35 milioni da Mares che ha 32 anni, sui 30 milioni da Laporte che la scorsa stagione non ha arrivato a 10 presenze probabilmente, e 55 milioni da Palmer che se guardi tutto sommato non ha neanche 10 presenze da titolare con la prima squadra più o meno. Quindi comunque, e poi fai 17 milioni da un'ala delle giovanili che non ha mai giocato in prima squadra, e poi ne fai 20 dal portiere che non ha mai giocato in prima squadra. Ci sono anche altre uscite di qualche giovane che ha mai giocato in prima squadra a 10-15 milioni. Non ve le ho aggiunte, ma ci sono. Quindi comunque fai delle buone uscite, andando anche a rimpolpare in realtà il reparto giovanile, perché ti prendi qualche parametro zero, il difensore in uscita dal West Ham, hai fatto uno scambio mi pare con lo United, vabbè, di giovanili in realtà non ne so troppo. E poi, oltre a fare delle belle uscite, secondo me fai delle grandissime entrate, perché comunque tu togli Gundogan e metti Kovacic. Come caratteristiche siamo uguali. Come caratteristiche di giocatore siamo praticamente uguali. Se dubitate di questo andate a vedere il mio TikTok fatto ancora giugno quando è stato comprato Kovacic. Vi ho mostrato per statistiche, per hitmap, per tutto, perché Kovacic è il perfetto sostituto di Gundogan, un comprezzo limitato e prendendo un giocatore di esperienza, che ha vinto Champions, che ha giocato col Chelsea, con il Real Madrid, che ha 30 anni, insomma, te lo potevi permettere. E poi tu fai uscire Laporte e lo sostituisci con Guardiol, che è uno dei difensori più forti al mondo, è un 2002, quindi ha 21 anni, cioè veramente giovanissimo, ha giusto un anno in più di me, quindi ha un potenziale per migliorare ancora di più, gioca abbastanza bene con i piedi, tant'è che per un momento Guardiola lo sta facendo giocare terzino-sinistro come faceva Kello scorso anno, quindi spinge, 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 ha un margine di miglioramento anche di tecnica, ti può fare sia il centrale sia il terzino, sia il braccetto, e quindi ti fai un grande colpo. Si parlava di 100 milioni, in realtà dopo, con la trattativa e tutto, il sito è riuscito a strapparlo a 90 milioni senza bonus. Si parlava di Lipsia, voleva 100 milioni più bonus. Sono riusciti, non so come prenderlo a 90 senza, quindi 90 e via. È tanto? È diventato il difensore più pagato della storia? Sì, però comunque potenzialmente questo ti può rimanere anni, ti può rimanere 5, 6, 7, 8 anni. Anche se ti rimane 8, comunque lui va via che ne ha 28, 29, ci puoi ancora monetizzare. Se fa benissimo puoi monetizzarci, puoi farci anche una plus valenza, visto come andrà avanti il mercato. Se fa male, comunque, ci fai magari una minus valenza, ma magari lo vendi a 50. Perché comunque parliamo male difficilmente, ma in questo primo partito è stato bravo, molto bravo. Si è ambientato molto bene. Poi, probabilmente perché c'era la nostalgia di Sterling, ti vai a prendere d'ocu. Effettivamente, noi abbiamo fatto la scorsa stagione senza Sterling, non avevamo un'ala di quelle veloci, meno tecniche, che però, cioè, di velocità bruciavano tutti. Cioè, Sterling, veloce, con i piedi stortissimi, tecnica quasi zero, però bruciava tutti, e faceva anche golla, grazie a questa sua velocità. Poi a prendere d'ocu, 2001, se non erro, quindi comunque 20-22 anni, giovane, con margini di miglioramento, che ha già dimostrato qualche cosa buona, deve migliorare sul lato realizzativo, deve migliorare sulla tecnica, però è un giocatore veloce, che può bruciare anche nello stretto gli avversari, grazie alla sua velocità, la sua esplosività proprio. Chi ha fatto vedere buone cose anche con il Belgio, quindi non solo con il Ren e il Ligue 1, ma anche con il Belgio, nelle partite internazionali, per esempio anche contro l'Italia, gli europei, mi ricordo che aveva fatto una buona partita. E quindi ti vai a prendere a 60 milioni, un giovane che può migliorare, che ti ricorda lo Sterling per caratteristiche. Mancava, e prendendo lui, però sei quasi costretto a vendere Palmer, perché Palmer tu l'hai venduto, perché hai preso d'ocu, e a destra ti terrai d'ocu e Bernardo Silva. Non potevi tenerti Palmer, perché poi tornava a KDB dell'infortunio, sarebbe diventato insostenibile, hai dovuto fare il sacrificio, non so se ne varrà la pena, lo scopriremo. Comunque lo sappiamo, adesso quello che conta è il club, non contano i giocatori, conta il club. Palmer, viene dalle giovanili e tutto, va bene, è andato via, pazienza. Io tifo la squadra, non tifo il giocatore, me ne farò una ragione. È arrivato Doku, mi terrò Doku. Ha voluto questo Guardiola, io ho completa fiducia in Guardiola, non potrei non averla, e quindi niente, ci fidiamo. Per finire, l'ultimo acquisto per la prima squadra, chiuso giusto il giorno prima, il 31 mi pare di agosto, Mateus Nunes dal Wolverhampton, ecco questo lo conosco un po' di meno, rispetto a Doku, rispetto anche a Gvardio Lecovacic, però comunque, doveva pagare sui 50-55 milioni, 24-25 anni, ex Sporting Lisbona, ai tempi dello Sporting, quando il City ci aveva giocato contro, Guardiola, mi ricordo che lo aveva esaltato tantissimo, dicendo, lui è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ai tempi era quasi sconosciuto, quindi comunque un giocatore che è sempre piaciuto Guardiola, poi è arrivato in Premier League, non ha fatto male in Premier League, ha fatto abbastanza bene con il Wolverhampton, purtroppo si ritrovava in una squadra che ha sempre riscatto la retrocessione, quindi è anche vero che non è che potesse far troppo. Lui è una mezzala, che può fare anche all'occorrenza il trequartista, se serve ogni tanto può fare anche l'ala, però ovviamente un'ala un po' atipica, diciamo, e probabilmente si alternerà con Kovacic, o andrà a fare anche magari il trequartista centrale, spostando Foden a sinistra o a destra, insomma, è un po' un jolly che dà veramente tante soluzioni al City, è un po' tipo Julian Alvarez, che ti può fare l'ala, ti può fare la punta, ti può fare la seconda punta, ti può fare il trequartista, però un po' meno avanzato, perché lui ti può fare la mezzala, ti può fare il trequartista, ti può fare il centrocampista centrale, non ti può fare il mediano, non l'ha fatto quasi mai in carriera, ma non ha le caratteristiche per fare il mediano, è un buon giocatore con la palla tra i piedi, portoghese, quindi conosce anche Ruben Dias, Bernardo Silva per la nazionale, conosce, vabbè, cancello, è andato al Barcellona, e quindi in realtà, tutto sommato, per me è stato un mercato positivo quello del City, perché comunque hai diminuito l'età media, perché tu, ripeto, hai venduto due over 30, uno che andava quasi per i 30, e anche un 21enne, è vero, però poi hai comprato un 30enne, un 22enne, un 21enne, e un 24enne, hai diminuito l'età media, hai preso tutti i giocatori che ti possono rimanere potenzialmente tanti anni, perché anche Kovacic potenzialmente ti può rimanere 4-5 anni, non è che va via prima, magari va via prima, magari no, quindi secondo me tu hai fatto un mercato positivo, dove non dovevi fare troppo, perché la squadra era già completa, la squadra era a posto, dovevi solo sostituire chi partiva, e infatti via Gundogan dentro Kovacic, via Palmer dentro Ducu, in questo caso dentro Ducu via Palmer, perché prima è arrivato Ducu, poi è andato via Palmer, via Laporte dentro Gvardiol, e poi in realtà, stavo guardando un attimo, magari è quell'uscita in più che M.R.S., però ti entra Nunes, è vero non è il suo ruolo, però l'entrata di Nunes può spostare Foden sulla destra, può spostare Bernardo, insomma, gli hai sostituiti quelli che sono entrati, mercato ripeto, secondo me assolutamente positivo, e quindi questo era il primo video di questo nuovo canale, vediamo nei prossimi video, vorrei analizzare un attimo il mercato dell'Arsenal, perché non mi ha convinto quasi per nulla, no, non così esagerato, però non mi ha tanto convinto, vediamo un po', io vi ricordo ragazzi di iscrivervi a questo nuovo canale, supportatemi, vediamo di crescere insieme, speriamo che questo progetto vi piaccia, passate anche dagli altri canali, passate soprattutto su Instagram, perché davvero lì è molto importante, e niente, per questo primo video di Ezz Sport è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!